Oggi è un giorno importante, in Italia si festeggia il 25 aprile del 1945, the 25th of April, 1945. È successo che l'Italia si è liberata e ha avuto questa possibilità di rinascere dopo l'oppressione nazofascista. Quando ho deciso di imparare inglese, quel giorno fatidico che mi ricordo come se fosse ieri, fu la stessa sensazione, una liberazione interna che mi permise di aprire le porte al mondo. Ogni parola che imparavo, ogni frase che riusciva a capire di più, mi apriva verso un mondo sconosciuto, mi liberava, era come se fisicamente potessi uscire dalla galera del non parlo inglese, parlo solo italiano e andare per tutto il mondo. Un conto è aspettarsi che tutti i film, tutti i libri, tutte le persone siano tradotte in italiano affinché io possa capirle e comunque dipende sempre dal traduttore e da che tipo di traduzione fa. Un altro conto è che io imparo l'inglese e ho accesso a tutto questo, senza dover dipendere da nessuno, senza essere schiavo di nessuno. Per questo io la chiamo la mia liberazione. Tu stesso puoi liberarti facendo questa scelta di imparare l'inglese una volta per tutte e avendo accesso a tutto il mondo. Happy Liberation Day! See you on the other day! Grazieoniea! Grazie a tutti.